Ben trovati i dati della mobilità sicurezza stradale in città, sono oltre 800 gli illeciti rilevati dalla polizia locale in questo fine settimana per comportamenti pericolosi alla guida, in particolare sono stati effettuati posti di controllo su strada e accertamenti mirati, 300 le sanzioni per eccesso di velocità nei diversi quadranti cittadini e le grandi arterie. Nuovo cantieri di manutenzione straordinaria al via da oggi i lavori nel sottopassaggio che collega via Marsala con via Giolitti, sino al 14 novembre si transiterà con un restringimento del tunnel che porta su via Giolitti in direzione Termini, poi dal 15 novembre al 19 dicembre i lavori nel tunnel saranno in direzione Porta Maggiore, tutto per questa edizione del Tg della mobilità. Grazie a tutti.